La mossa più sensata sarebbe quella di utilizzare il villaggio Eni di Borca per ospitare gli atleti. Ne è convinto il sindaco del paese Cadorino Bortolo Sala, che alla vigilia della probabile decisione definitiva sull'ubicazione del centro per le squadre nazionali per le Olimpiadi a Cortina, scrive al commissario Luigi Valerio Sant'Andrea per cercare di riaccendere la riflessione sulla cittadella di Gelner. Di ipotesi sul tavolo ce ne sono almeno altre due, ovvero Fiammes, come inizialmente preventivato, e Campo, area di interesse naturalistico, su cui però si sono concentrati gli ultimi ragionamenti, più la terza opzione, Cimabanche. Nel dossier di candidatura si parlava di un villaggio olimpico temporaneo e smontabile, a differenza della proposta di Borca, che è un recupero di un'opera sviluppata in gran parte e già accessibile per i disabili. Qui si tratta di vedere, scrive Sala, se si ritiene opportuno lasciare una importante eredità sul territorio oppure, se si ritiene sufficiente, costruire opere per poi rimuoverle. L'eredità che il sindaco intravede, insieme a Dolomiti Contemporane e che condivide l'idea di un progetto di recupero, è data dalla successiva spartizione degli spazi. Una quota per università e centri di ricerca, Padova per esempio, ha già un centro del genere a San Vito, una per un centro congressico in relativa offerta di ospitalità, un'altra riservata a residenze private, una quarta da destinare a uno ski college, una quinta per il social housing. La colonia, scrive Sala, il commissario mantiene tuttora la possibilità del carico urbanistico originario, fino ai primissimi anni 90 ospitava 600 bambini, più 200 persone di servizio, e la proposta dell'eventuale villaggio olimpico si limiterebbe a recuperare 450 posti.